Noi chiediamo una Bari più vivibile, verde, ecosostenibile. Rigenerazione urbana, il distretto urbano del commercio, i mercati settimanali e il turismo come traino sono alcuni dei punti messi a fuoco da Confcommercio Ascom Bari nella lettera per i candidati a sindaco con i quali l'associazione barese ha sottoscritto un accordo programmatico. La sfida elettorale dei prossimi 8 e 9 giugno sarà infatti fondamentale per lo sviluppo della città verso il 2029. Saranno 5 anni densi di sfide a partire dalla sostenibilità, lo sviluppo commerciale, industriale e artigianale con particolare attenzione allo sviluppo turistico volano dell'economia locale. Vogliamo dire che il Murattiano per esempio è un centro commerciale all'aperto e quindi bisogna fornirlo dei servizi che oggi sono necessari per le famiglie affinché possa essere quel centro commerciale che è e che sarà nel futuro ancora più fruibile, più vivibile dove la sicurezza non è un problema, dove le famiglie possono trovare anche per i loro figli un qualcosa che li possa legare alla città. Bari è una città bellissima, il turismo, lo sapete, cresce sempre di più e è stato fatto molto per Bari ma oggi noi abbiamo bisogno di avere una programmazione e quindi sapere quando arrivano, perché arrivano, cambieremo gli orari se è necessario, anche dei negozi, delle vetrine.